Fino a dove può spingersi chi esce a correre o in bicicletta, ma ha anche la possibilità di andare dal parrucchiere in un altro comune oppure a Livigno a fare il pieno. Per chiarire le questioni interpretative più controverse scaturite dall'applicazione del DPCM del 3 novembre, il prefetto di Sondrio ieri ha diramato un'apposita circolare in cui approfondisce ulteriormente le spiegazioni date nel comunicato del giorno prima. Iniziando dalle attività sportive o motorie, queste sono consentite soltanto nel proprio comune di residenza, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici o accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Confermato anche ciò che chiedevano i parrucchieri, è stata infatti condivisa l'interpretazione secondo cui è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato fuori dal comune di residenza. Sarà sufficiente, come del resto già accade, che i parrucchieri garantiscano l'afflusso contingentato della clientela a suo appuntamento. Importanti chiarimenti dalla prefettura poi riguardo alla possibilità di recarsi in altri comuni per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Nella nota del prefetto si specifica che gli spostamenti sono consentiti presso comuni vicini qualora non sia possibile effettuare la spesa nel proprio comune, quando ad esempio in paese non ci sono punti vendita, oppure è necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile in loco, oppure ancora il negozio più vicino a casa si trova effettivamente in un comune vicino. Nella nota del prefetto che sottolinea come il concetto di necessità e urgenza debba essere necessariamente declinato con buon senso, si richiama inoltre sia la particolarità di questa provincia che si connota per la presenza di piccoli comuni con altrettanto piccoli negozi, non sempre provvisti di tutti gli articoli, sia le condizioni di chi versa in una situazione di ristrettezza economica, magari acuita dalle conseguenze della pandemia, tale per cui la scelta di dove fare la spesa si orienta sul punto vendita dove si sa di poter risparmiare. Sì dunque agli spostamenti per spendere meno ed evitare assembramenti nelle botteghe di paese, ma no al pieno della propria automobile fuori comune. L'opportunità di recarsi nel territorio comunale di Livigno per effettuare il rifornimento di carburante è stata infatti riconosciuta soltanto in favore dei residenti nel comune di Val di Dentro, nel cui territorio non sono presenti impianti di carburante e degli autotrasportatori. Un'altra differenza interessa a chi prega. Mentre per ora, rispettando il distanziamento e muniti di autocertificazione, si può partecipare alle messe, addirittura è consentito anche a persone non parenti di partecipare a funerali in comuni diversi dal proprio, l'attività dei centri culturali islamici di Sondrio e di Geralario, in provincia di Como, sono state sospese. Motivo? Questi non rientrano nella categoria dei centri di culto. Se fossero rimasti ancora dubbi riguardo ai provvedimenti previsti nell'ultimo DPCM, è possibile visitare il sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sezione domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.